Nasce la carta d'identità del paziente. Un accurato lavoro di ricerca della Fondazione per la Medicina Personalizzata, di cui è presidente l'oncologo Paolo Marchetti, ha evidenziato nuove prospettive e approccio di cura per i pazienti oncologici. Il lavoro condotto in team con ricercatori esperti nel campo della genetica, della biologia umana e della biochimica farmaceutica ha prodotto un rivoluzionario approccio nella cura dei malari di cancro, che ben si può adattare anche ad altri pazienti affetti da altre importanti patologie, soprattutto laddove un individuo è costretto ad assumere più farmaci nel corso della giornata. Il progetto che ne è nato, come esposto dal professor Paolo Marchetti, che oltre a presiedere la Fondazione E' Ordinario di Oncologia all'Università di Roma La Sapienza, vede la sua applicazione nella nascita della carta d'identità del paziente, un essenziale strumento che contiene tutte le notizie sui farmaci o integratori che il paziente utilizza e che coinvolgerà inizialmente 120 pazienti oncologici. Nel corso dell'incontro Marchetti ha spiegato che ogni individuo è differente dagli altri, in quanto contraddistinto da un microbiota, che altro non è che l'interazione tra il mondo esterno, in termini di batteri presenti in esso e nel nostro organismo, con il proprio patrimonio genetico. In questo senso va la medicina personalizzata che oltrepassa anche la frontiera della medicina di precisione, tanto studiate in questi ultimi anni. In altre parole, se in passato l'oncologo si preoccupava di combattere il tumore con chemioterapie anche aggressive e non avendo la possibilità di un quadro completo sui farmaci assunti dal paziente, si affidava al trial and error, cioè provo e se sbaglio cambio terapia. Oggi il consapevole utilizzo della medicina personalizzata concede all'oncologo tutte le informazioni che lo aiutano a non sbagliare e a somministrare terapie sempre più efficaci, con un notevole risparmio anche del sistema sanitario nazionale. Alla base di questa nuova visione terapeutica fondamentale è la capacità di ascolto del paziente, che diventa coautore del suo stesso percorso terapeutico, grazie a tutte le informazioni che saprà fornire all'equipe medica. Il tutto va a costituire la personale carta d'identità o Passions DDI, che è riportata su una piattaforma di database, fornisce tutte le informazioni per evitare pericolose interazioni tra farmaci, che potrebbero rallentare o addirittura nuocere gravemente al percorso di cura. Si tratta di numeri importanti, come spiegato dallo stesso Marchetti, per un totale di 3,4 milioni di italiani, che vivono, dopo aver ricevuto una diagnosi di neoplasia, un numero destinato ad aumentare. Al convegno d'esordio della carta d'identità del paziente hanno partecipato il professor Maurizio Simmaco, ordinario di biologia molecolare, e il dottor Andrea Botticelli, del Dipartimento di Oncologia, entrambi dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma. L'incontro è stato moderato dal giornalista Mauro Boldrini.